C'è un po' di cartello che aveva molto tragico, e una figura di femmina scannata. Si erano fatte una bandina di replica, ma la sala si aveva già tutta affurlata. E chiede pure a sto cinematografe, come si dice la fatica. Da prima parati subito, dicette ma st'autore, come ha potuto scrivere quello che ha portato in giusto in tuo cuore. Guarda sto primo attore, carito si va a piangere, si getto in un pubblico che mi sapeva assoluti a te. Perchè ci torna sto cinematografe? Non vuoi sapere perché? Mi piace assai. E che lavoro fanno, amore tragico, mi piace tanto e non mi porta mai. non c'è venire a me, io sei una porta a me, e che facette per venire con me. Donna ti posso chiedere, conto del nostro amore. E su ricetta pallida, e l'ha pallata nettamente a me. Asci mi incendio fuori, Asci mi incendio subito, io le ricetta sette, che la terza parte è bella di avrò. Ma lei, ma cosa è la terza parte? La terza parte è bella la terza parte. Ma voi mi interrompete sempre. Invece questa canzone ha scritto a buon anno mio papà posto. E lui ha detto che ho un po' cartello, ha scritto a buon tragico, che la figura di femmina è scannata. No, se papà le mi piace proprio...